Il caso di Marco Grossi Il caso di Marco Grossi Il caso di Marco Grossi come lavorare con il maestro allora è una bellissima esperienza e purtroppo l'ho conosciuto tardi quindi solamente l'anno scorso e comunque abbiamo c'è lui in mente tanti tanti progetti e sono felice di affiancarlo ovviamente quando lui vuole mi vuole prendere in considerazione quindi si è stata una bella esperienza è una bella esperienza non è stato eccessivamente cattivo no no anzi si può dire che lui non è mai severo mai cattivo come ha detto prima però riesce sempre a farsi ascoltare e riesce sempre poi alla fine a far venire bene ogni sua idea ogni suo progetto e questo è una cosa che apprezzo invece adesso vorrei fare una domanda all'autore allora come le è venuta in mente questa idea di frammentare l'uomo è un progetto che parte da molto lontano io ho sempre tentato di andare a esplorare gli aspetti non consueti dell'uomo di rovesciare un poco l'archetipo che vede l'uomo forte rigido con sempre padrone delle situazioni mi sono reso conto che ci sono aspetti che un uomo non rivela di sé tende a nasconderli se ne vergogna ed è quel percorso che ho voluto fare sono nati questi racconti nel corso degli anni legati comunque da un filo e da un progetto che non nasce adesso nasce molto molto all'indietro proprio perché queste fragilità vedo che tutti tendono a negarle invece ci sono e sono quasi sempre per non dire sempre si rivelano quasi sempre nello scontro incontro con la parte femminile sia fuori di sé che dentro di sé perché quell'aspetto che l'uomo tende a negare sempre che ci possa essere dentro se stesso una una sorta di femminilità latente chiariamo non in senso sessuale ma in senso psicologico che dobbiamo anche noi prendersi conto che siamo persone con le nostre debolezze le nostre paure per cui esistono veramente delle fragilità dal punto di vista maschile che poi trasformano l'uomo in tanti piccoli frammenti esistono esistono e sono tanti piccoli frammenti di fragilità per cui l'uomo molte volte proprio per nascondere questa fragilità queste fragilità che vede come una minaccia a se stesso tende a includirsi tende ad essere ancora più rigido ancora meno sincero nel porsi nei confronti dell'altro sesso ne ha paura ed ha paura di far di rivelarla queste queste paure per cui questa è la seconda volta giustamente ti aspettiamo una terza non c'è due senza tre non c'è due senza tre vi aspetto a braccia aperte grazie mille grazie a tutti quanti grazie grazie